La grappa ufficiale della Dunata Nazionale degli Alpini è stata prodotta a Bergamo in una distilleria di Arzano San Paolo. Si tratta della distilleria Zini, l'azienda già nella precedente adunata a Bergamo era stata scelta dagli alpini per la produzione della grappa. Quest'anno non potevamo mancare, quindi abbiamo realizzato quattro tipologie diverse di formati. Le più particolari sono quelle a forma di cappello dell'alpino, l'altra invece è una bottiglia con all'interno una costruzione di rovere con un rametto di ginepro con la personalizzazione proprio con la scritta 83esima Dunata degli Alpini. Si differenziano anche nel contenuto. Esatto, sono tre contenuti diversi, una è appunto grappa di vinaccia, l'altro è liquore genepì e l'altro ancora è liquore a base di grappa e mirtilli. Diciamo che i tre prodotti insieme formano un po' la bandiera italiana. Ogni sera durante l'adunata la distilleria Zini presso lo stand allestito nel villaggio Italia in Piazza Dante a Bergamo offrirà assaggi agli appassionati e agli alpini giunti in città. Attualmente abbiamo messo sul mercato 10.000 pezzi ma contiamo di arrivarne attorno ai 15.000. Non essere presenti in queste occasioni è un grande difetto. Noi siamo conosciuti soprattutto per la disponibilità a personalizzare molti prodotti ai nostri clienti. È un settore questo che ci interessa, magari chi lo sa ci rivediamo l'anno prossimo a Torino.